A Pescara il Florian Meta Teatro apre la stagione autunnale con un festival incentrato sulle giovani generazioni e sui linguaggi plurimi dell'arte. Scenario europei giunge quest'anno all'ottava edizione, con un programma di tre giorni ricco di teatro, musica, performance e videoarte, che porterà a Pescara giovani compagnie che si sono distinte nelle varie discipline artistiche protagoniste del festival. Promosso dal Florian Meta Teatro, centro di produzione teatrale in collaborazione con l'associazione Premio Scenario, con il sostegno della regione Abruzzo, del ministero della cultura e del comune di Pescara, l'ottava edizione di scenari europei si terrà a Pescara dal 22 al 24 settembre. La direzione artistica è di Giulia Basel e Massimo Vellaccio. Si tratta di un giovane festival, un appuntamento ormai consolidato e devo dire anche molto atteso dal pubblico che segue il teatro di ricerca ad avanguardia e che è pronto ad accogliere le nuove proposte. Infatti un giovane festival proprio perché i partecipanti al festival che noi abbiamo selezionato, anche grazie al premio scenario di cui siamo soci da lungo tempo, sono tutti giovani under 35 e molti sono di teatro, ma anche di danza, di musica e abbiamo anche un ospite di arti visive molto significative che è un'artista iraniana. Quindi tante cose, sono tre serate, in ogni serata ci saranno tre accadimenti e appunto due di teatro, uno di musica o di arti visive e poi come di consueto a fine serata ci sarà l'incontro generale di tutti gli artisti del giorno con i nostri Pippo Di Marca, Massimo Bellaccio e anche Paolo Verlengia, Sibilla Panerai, insomma curatori e esperti dei vari settori che proponiamo. Il costo del biglietto è molto contenuto, tutta la serata intera quindi con tre spettacoli più il colloquio a soli 12 euro e c'è anche la possibilità di fare un abbonamento e costa ancora meno per incentivare in particolare i giovani a seguire questa bellissima entusiasmante rassegna.